L'eliminazione di 100 tralicci, 137 ettari di territorio liberati, risultati che si potrà raggiungere nei comuni del Tiranese grazie al max investimento da 240 milioni di euro varato da Terna. A primavera l'ospedale di Sondrio avrà lo stesso acceleratore lineare della Humanitas ed istituto dei tumori. L'obiettivo è passare da 37 sedute per le terapie, azzerate le liste d'attesa per i pazienti. Su una popolazione target di 11.500 bambini sono 419 i bimbi tra i 5 e gli 11 anni prenotati in due giorni per la prima dose del vaccino anti-Covid. Il settore metalmeccanico, uno dei più importanti dal punto di vista occupazionale, tra i nodi da sciogliere, spiega il sindacato di categoria Cisla il forte aumento dei contratti a termine. Buonasera, buonasera a tutti. Parliamo in apertura di energia e di territorio. L'eliminazione di 100 tralicci, 137 ettari di territorio liberati. Risultati che si potranno raggiungere nel Tiranese grazie al max investimento da 240 milioni di euro varato in queste ore da Terna. Vediamo. 240 milioni di euro, ingenti le risorse che Terna investirà per interventi sulla rete elettrica presente nel Tiranese, già avviato dal Ministero della Transizione Ecologica, l'iter autorizzativo. Si prevede la realizzazione di nuove stazioni elettriche a 380 kV nei comuni di Grosotto, Villa di Tirano e Tovo Sant'Agata. 13,5 km di nuove linee in cavo a 380 kV che collegheranno il tratto Grosina-Tovo. 2,8 km di nuovi raccordi in cavo 220, 150 e 132 kV nel tratto tra Grosio e Villa di Tirano e raccordi aerei di collegamento alle nuove stazioni elettriche per un totale di 4,2 km. Il complesso di interventi, una volta realizzato, consentirà la demolizione di oltre il 34 km di elettrodotti aerei esistenti per un totale di 100 tralici e 137 ettari liberati. Le soluzioni progettuali, la localizzazione degli impianti, le fasce di fattibilità all'interno delle quali si snoderanno i nuovi collegamenti, spiega la società in una nota, sono il frutto di un proficuo percorso di confronto e progettazione partecipata intrapreso da Terna e la provincia di Sondrio in coordinamento con la regione Lombardia, con i comuni e tutti gli enti coinvolti. L'intervento consentirà di aumentare la magliatura e dunque l'efficienza della rete elettrica dell'aria, spiega Terna, favorendo anche l'integrazione dell'energia prodotta negli attuali impianti idroelettrici. Inoltre, grazie al vasto piano di riassetto della rete in alta tensione, diminuirà l'impatto sul territorio delle infrastrutture elettriche esistenti con benefici a livello ambientale e paesaggistico. Il piano di riassetto rientra nel quadro dell'accordo di programma sottoscritto nel 2003 da Terna e tutti gli enti locali coinvolti che prevedeva, a valle della realizzazione dell'elettrodotto San Piano Norobbia, la razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale in Valtellina e Valcamonica. La sanità c'è un nuovo acceleratore lineare in arrivo per il reparto di radioterapia oncologica e medicina nucleare dell'ospedale di Sondrio. Il macchinario sarà in funzione dalla primavera prossima e pone il reparto a livello di centri specialistici quali Humanitas e Istituto dei Tumori. Vediamo. Il reparto di radioterapia oncologica e medicina nucleare è all'avanguardia per le cure oncologiche. A primavera l'ospedale di Sondrio avrà un nuovo acceleratore lineare, il top di gamma in questo ambito, lo stesso, utilizzato in centri specialistici come Humanitas e Istituto dei Tumori. Nelle scorse settimane è stata smontata l'apparecchiatura in uso, uno dei due acceleratori lineari presenti e sono iniziati i lavori. Entro qualche settimana sarà completato il nuovo basamento adatto a sostenere le 5 tonnellate dell'apparecchio. In vista dell'ennesima innovazione di un reparto all'avanguardia nella cura dei tumori, che può già contare su MOC, PET e Stereotassi, il direttore della radioterapia oncologica e medicina nucleare, Claudio Barbonetti, ha organizzato il lavoro sull'altro acceleratore lineare in uso, ampliando gli orari per soddisfare tutte le richieste. Il nuovo apparecchio è il più completo disponibile sul mercato, spiega Barbonetti. Si tratta di una macchina sofisticata che consente di controllare con precisione il dosaggio della radioterapia e che distribuisce la dose più velocemente. utilizza il sistema 4D e permette di intercettare tutti i movimenti, riducendo il disagio per i pazienti. Ad oggi il reparto è in grado di soddisfare tutte le richieste e non esistono liste di attesa. I pazienti iniziano la terapia pochi giorni dopo la prescrizione. Il passo successivo è rappresentato da un'ulteriore innovazione, la suddivisione del ciclo di radioterapia in un numero minore di sedute, che si è dimostrata allo stesso modo efficace. L'obiettivo che ci siamo posti, continua Barbonetti, è di passare da 30 a 6-7 sedute. La durata della terapia diminuisce e così i disagi per i pazienti, soprattutto per chi risiede più lontano da Sondrio, come già stiamo facendo con la stereotassi, che ci ha consentito di ridurre le sedute da 15 a 4-5. L'apprezzamento nei confronti di un reparto che anche durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria ha garantito le cure e confermato dai numeri. Nei primi otto mesi del 2021 sono stati accolti 316 pazienti per la prima visita, contro i 262 del 2019, il 20% in più. Molti valtelinesi e Valchiave e Naschi, che si spostavano nei centri del Milanese per le terapie oncologiche, hanno scelto di farsi curare all'ospedale di Sondrio, che offre apparecchiature e professionalità di altissimo livello. Ad esempio, pochissime altre radioterapie possono contare sulla contemporanea presenza all'interno dello stesso reparto di PET e TAC, le cui risultanze abbinate vengono utilizzate in tempo reale per stabilire il trattamento adeguato. A due giorni dall'apertura dei termini sono 419 le prenotazioni per la prima dose del vaccino anti-covid per i bambini fra i 5 e gli 11 anni in provincia di Sondrio e Alto Lario. Per Valtine e Valchiavenna la popolazione target per questa fascia d'età è di 11.500 persone. Vediamo. Sono 419 i bambini di provincia di Sondrio e Alto Lario fra i 5 e gli 11 anni per i quali è stata già prenotata la prima dose di vaccino anti-covid-19. Il dato di ATS della montagna è il primo disponibile dopo l'apertura delle prenotazioni avvenuta domenica e fa riferimento agli slot vaccinali dal 16 al 22 dicembre che sono quelli al momento aperti sul territorio. Il riferimento per la provincia di Sondrio è su una popolazione target pari a 11.500 bambini tra i 5 anni compiuti e gli 11. Complessivamente sul territorio di ATS della montagna che comprende provincia di Sondrio, Alto Lario e Valcamonica la popolazione target è di 17.745. Per la Valcamonica le prenotazioni per la prima dose nei bambini sono fino ad ora 222. In totale la TS ha dunque ricevuto 641 adesioni nei primi due giorni di apertura della possibilità di aderire al piano vaccinale per i più piccoli. La prenotazione per i bambini può essere effettuata attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it nella sezione prima e seconda dose cliccando sulla categoria cittadini con età compresa fra i 5 e 11 anni. La somministrazione avverrà come sempre presso i centri vaccinali del territorio della TS montagna in corsie preferenziali dedicate ai bambini secondo date e orari disponibili indicati sulla piattaforma. Per non creare sovrapposizioni con gli orali scolastici le sedute vaccinali sono state fissate in orari pomeridiani e nei fine settimana. Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è come Irnati nella formulazione specifica approvata da AIFA. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di tre settimane, 21 giorni dalla prima. La copertura vaccinale al 10 dicembre va dal 94% degli over 80 all'81% della fascia 12-17 anni. Intanto gli ultimi dati comunicati da TS della montagna parlano di 153 nuovi casi gestiti in provincia di Sondrio tra venerdì e domenica scorsi, un deceduto e 76 guariti. Il settore metalmeccanico è uno dei più importanti dal punto di vista economico occupazionale. In provincia di Sondrio le aziende a conduzione familiare si affiancano gruppi di notevoli proporzioni. Trenodi da sciogliere, spiega il sindacato della Cisla, l'aumento dei contratti a termine. Vediamo. Gli effetti economici della pandemia, l'innovazione, la formazione, il ricorso allo smart working, questi alcuni dei temi messi a fuoco dal sindacato metalmeccanici della Cisla di Sondrio durante il congresso provinciale. La crisi determinata dalla pandemia, spiega la Fimcisla, ha accentuato le diseguaglianze a scapito delle fasce più deboli della popolazione e accelerato i processi di transizione ecologica e digitale con evidenti rischi di esclusione dal mercato del lavoro di larga parte di lavoratori e lavoratrici. Migliorare l'occupabilità dalle persone all'obiettivo, la formazione è sempre più indispensabile per far crescere professionalità e competenze. La contrattazione, aggiunge il sindacato metalmeccanici Cisla, dovrà intervenire per regolamentare lo smart work e dovrà affrontare il tema della precarietà. I percorsi di inserimento lavorativo dovranno dare certezze su tempi e forme di assunzione. Anche per evitare, sottolinea la Fimcisla, situazioni inaccettabili riscontrate peraltro anche nella nostra provincia, che vedono aziende con lavoratori precari in maggioranza rispetto a quelli a tempo indeterminato. Contrastare le scelte di delocalizzazione, dando valore alla responsabilità sociale di impresa questo un altro obiettivo messo in agenda. Urgente la revisione del sistema di ammortizzatori sociali, da rafforzare affiancando politiche attive che garantiscano alle lavoratrici e ai lavoratori percorsi di riqualificazione effettivi per il loro reinserimento nel sistema produttivo dopo la chiusura di un rapporto di lavoro. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ancora di più in tempo di pandemia, resta prioritaria. Durante il ventesimo congresso provinciale dei metalmeccanici Cisla, confermato Vittorio Cantoni, nella carica di segretario generale, presenti il segretario nazionale Massimiliano Nobis, il responsabile regionale del sindacato di categoria Mirko Dolzadelli e Davide Fumagali, segretario generale della Cisla di Sondrio. È uno degli sport del momento, nelle grandi città è diventato un autentico fenomeno, stiamo parlando del padel, un'evoluzione dei racchettoni da spiaggia. Chiavenna prenderà il posto delle bocce. Un campo di padel in centro a Chiavenna salva il Parco San Fedele. Pochi mesi fa la parrocchia annuncia di non riuscire più ad occuparsi del polmone verde cittadino. Il comune indice subito un bando per affidare la gestione di chiosco, parco e campetto sintetico. E questa settimana è il lieto fine, con i giovani vincitori della gara, l'associazione sportiva Chiavenna Padel, che si occuperanno del parco a partire dal 2022 e per i prossimi 12 anni. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati come amministrazione comunale, spiega Andrea Giacomini, assessora al turismo e allo sport. Grazie all'impegno di questa associazione, l'area sarà potenziata sia dal punto di vista dello svago di grandi e piccoli, sia per la pratica sportiva. Riteniamo importante valorizzare un'area come quella di San Fedele, che rappresenta una risorsa per i residenti nella zona, per tutti i chiavennaschi e anche per i turisti. Il 2022 segnerà un nuovo inizio per il parco San Fedele e sono certo che grazie ai nuovi servizi sarà ancora più frequentato. Siamo grati alla parrocchia per il grande lavoro svolto in questi anni e auguro alla Chiavenna Padel di poter svolgere un buon lavoro in sinergia con altre realtà sportive locali e con le scuole. La novità del progetto dell'associazione è la trasformazione del campo di bocce in un campo per il padel e la collaborazione con la polisportiva chiavennese per promuovere questa nuova attività sportiva, oggi molto di tendenza. Non posso che essere contento del grande risultato ottenuto, è il commento di Daniele Ciapponi, consigliere con delega alle politiche giovanili. Con la nuova gestione da parte di questi giovani volenterosi che si sono messi in gioco, il parco San Fedele si riproporrà quale fiore all'occhiello della nostra città. La presenza costante e la cura dell'intera area che sarà mantenuta pulita e ordinata, oltre a migliorare la fruibilità, potranno essere un freno agli atti vandalici di cui è stato oggetto. Otto i ragazzi premiati per il lavoro svolto nelle tesi di laurea legate al territorio Valtrine Valchiavenna nella giornata in ricordo di Lisa Garbellini, fra i temi affrontati dagli studenti, quello delle scuole locali nel periodo della pandemia e lo sviluppo del territorio. Sono stati i familiari di Lisa Garbellini a proclamare i vincitori del nono premio di laurea dedicato alla sua memoria. I riconoscimenti sono andati a Francesco Brioschi per la laurea triennale in ingegneria gestionale, Rosa Bruseghini per la magistrale in scienze storiche, Simone Guizzardi per la magistrale in giurisprudenza e Francesco Rossatti per la laurea in scienze pedagogiche. Proprio lui ha condotto una ricerca sulle competenze pedagogiche nelle scuole medie della provincia durante la pandemia. Una ricerca condotta nelle scuole secondarie di primo grado andando ad individuare le competenze di pedagogista. Lo stupore positivo è stato quello di aver incontrato delle realtà che hanno messo in gioco tutte le loro abilità. Di contro appunto ci sono delle competenze che delle figure non formate non potevano avere e quindi le criticità sono emerse soprattutto rispetto, e questo è un tema che è emerso molto anche questa mattina durante la conferenza, un lavoro di rete, di squadra, di stare insieme. Io ho preso la pandemia come punto di forza e non come punto di debolezza e ho deciso di affrontare proprio la mia ricerca in una situazione di emergenza. Due, i premi assegnati da Ersaf, Luca Pasini che ha approfondito la presenza di Flavescenza Dorata nei vigneti della Media Valtellina e gli studenti Leonardo Borrelli, Alae Lassali e Greta Varani per la tesi in architettura che propone un ecomuseo per Media e Alta Valle. Quante uno dei nostri corsi di studio abbiamo avuto un laboratorio proprio qui in Valtellina e ci siamo innamorati di questo luogo e abbiamo deciso di proseguire con un lavoro di tesi ampliando l'area di progetto a 12 comuni che vanno da Tirano fino a Bormio, includendo anche la Val di Dentro. Diciamo che abbiamo pensato allo strumento dell'ecomuseo perché ci sembrava uno strumento in grado di coinvolgere sia il patrimonio materiale, quindi le varie iniziative per la riqualificazione del paesaggio, sia tutti invece quegli aspetti, quei fattori della vita sociale degli abitanti della Valtellina. Ci sono assolutamente tante associazioni attive sul territorio, abbiamo però notato che sono purtroppo molto ristrette nel proprio comune o comunque in un'area molto ristretta. Quello invece che noi vorremmo e pensiamo possa aiutare molto è proprio un'unitarietà, un progetto più grande che riesca sia a vedere nel piccolo, nella particolarità di ogni luogo, di ogni piccola tradizione, ma anche che dia un discorso continuo in tutto il territorio. C'è un buon sentimento sia da parte della comunità ma anche da parte delle istituzioni. Speriamo che nel giro dei prossimi anni qualcosa vada a muoversi e a migliorare un territorio che è veramente spettacolare. Un defibrillatore nuovo ai Barchi, una delle località più conosciute negli appassionati di montagna, da chi decide di trascorrere ore di relax in Val Malenco. È stato collocato in queste ore all'esterno del rifugio Giusa, struttura gestita da Graziella Polattini, attivo 24 ore su 24 ed è già stato inserito nella rete di Areu. Un'idea nata per l'iniziativa di un gruppo di ragazzi che frequentano il rifugio, hanno dato il loro sostegno concreto anche a alcuni imprenditori valteinesi. Un'operazione a costo zero per la collettività che offre ai turisti un servizio molto importante. È stata anche creata un'area discaldata per evitare che le batterie a causa del freddo intenso si scarichino troppo in fretta. Vi ricordo che potete seguire le nostre news su teleunica.com, guardare le trasmissioni e il palinsesto su teleunica.tv e trovare tanti contenuti sui nostri social. Con questo è davvero tutto, buona serata a tutti. Grazie a tutti.